non ti so per altri l'abilità che ci ha dato è sottratto male di tutti la varezza del cuore in un tesoro nel tempo ha rubato l'osso dei cuori scompare il cielo e con i dittatori e il potere di portare con il popolo ritornerà al popolo la cazzo merito è un sito la libertà non può essere soltati soltati non cedere dei prodotti uomini che li sconetano che li spuntano che vi dicono come viva che cosa fare cosa dire che cosa pensare che dirne ci metano che tutti i giorni vi trattano come bestie non lo so sebrate questa è un'anima uomini in magia con macchina nel nostro cervello non dipendeva dalla cia di voi della libertà e con l'anima del pancero di San Luca è scritto il regno di Dio e del cuore e del uomo ma non di un solo uomo di tutti i uomini ma di tutti i uomini noi il popolo avete la forza di fare una vita ci è da essere di fare di fare di questa vita una spesa di un uomo quindi il nome della libertà tutti usiamo questa l'unica non abbiamo ci potete partiamo con un mondo vuoto che sia il migliore che sia un altro uomo combattiamo con il liberare il mondo dominando confini di partiere vivendo rapidità l'odio di un po' della roba combattiamo con un ragione del mondo in cui la scena e il progetto chiamano tutti i uomini per me sono altri e il nome della libertà l'unica siate tutti io chiedi Anna voi chiedi comunque possiamo quanto hai dato Anna che non è l'unica l'unica che è la spedizione di sole ma poi uscire a trospitare il mondo molto nuovo molto più vuoto tutti questi uomini sono arrivato anche super la loro attività del suo occhio la loro brutalità guarda che non vado guarda 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 le sue ablie finalmente comincia a volare sul alto padrone verso il alto sicuro il glorioso futuro che partiene a feo a me a tocco su mochi la figlia il grande dittatore c'è l'amico c'è c'è Grazie a tutti.